I pubs potranno vendere birra takeaway durante il lockdown. Il governo ha emanato una nuova direttiva per consentire ai pubs la vendita da sporto, purché gli ordini siano fatti in anticipo al telefono e online. Un'inversione di marcia dovuta alla necessità di far sopravvivere un settore ormai allo estremo, che avrebbe dovuto rinunciare a 7 milioni di pinte in un mese. Un colpo probabilmente mortale per l'industria delle birrerie, che ora dovranno sperimentare se l'espediente sarà utile e restare a galla. Il presidente dell'associazione Campaign for Real Ale, Nick Antona, ha accolto positivamente la decisione del governo, definendola vitale per tutto il settore. L'associazione era stata tra le protagoniste delle numerose e-mail inviate ai parlamentari per chiedere un intervento a favore dei pubs, ma per il chief executive della British Beer Pub Association, Ebba McClarkin, la soluzione potrebbe non essere sufficiente per tutti e il rischio di chiusura per molti esercizi è sempre alto. Il governo ha anche autorizzato l'apertura per alcuni settori commerciali come i negozi di animali, i chioschi alimentari all'aperto, i negozi di biciclette, i ferramenta e i garden centers. Prendi oggi e ricevi domani a casa in tutto il Regno Unito.